Abbiamo grande voglia di dimostrare che il Lumezzani sia stato un incidente. È una squadra importante, una squadra che possa diventare un gruppo vero. Deve subito dimostrare domani che sia una partita, a prescindere dal risultato, una partita dove vogliamo ottenere a tutti i costi la vittoria. Abbiamo fatto una buona settimana, i ragazzi si sono allenati benissimo. Sappiamo che abbiamo fatto una brutta partita a Lumezzani e non vogliamo ripeterla domani. Abbiamo parlato tantissimo del centrocampista perché era andato via Maddio, ma da sempre ci eravamo detti che serviva un centramanti di stazza che potesse essere un'alternativa o a croce perché noi nella nostra rosa se manca croce non avevamo giocatori di struttura, di gamba. Quindi la punta era una priorità come il centrocampista, anche se negli ultimi giorni avevamo spinto molto sul centrocampista perché a livello numerico non siamo tantissimi. avevamo parlato sicuramente di sostituire Maddio con un giocatore importante. Non volevamo prendere un centrocampista giusto per prenderlo perché è giusto secondo me che una società spenda i soldi quando si è alla piena convinzione. Il mio nome era quello di Baldassina, non nascondo, l'avevo già fatto. Ci sono stati problemi con il Messina fino all'ultimo minuto dove il ragazzo è stato, tra virgolette, vincolato da loro e obbligato ad andare alla Lupa Roma. Quindi in quel momento lì un giocatore importante del livello di Amadio, non parlo tanto tecnico perché lo sapete, ma a livello numerico, a livello di personalità non lo abbiamo trovato e quindi va bene, ma la squadra è all'altezza della situazione. Se riconosciamo che possa arrivare un giocatore anche tra gli svincolati che possa aumentare la qualità di questo gruppo, perché no? Noi potremmo fare risultati se io sarò capace a far sentire importanti anche quello che in quella domenica è escluso. Questo è il lavoro più difficile. Lei mi parla di Campitelli, io sono stato a Pordenone, che il presidente entrava e diceva ai giocatori come si dovevano muovere. Quindi sono abituato, anche se il rapporto con Campitelli, con il sottoscritto, non lo so perché, ma c'è sempre un confronto veramente, non mi ha mai imposto niente, ci mancherebbe altro, lo dico qua, però nello stesso tempo dal primo giorno, come ho sempre fatto, secondo me da persona intelligente, condividere con la proprietà quello che sto pensando, che sto facendo, penso che sia intelligente. Noi davanti con Jefferson, che dà l'alternativa anche al giocatore di forza, sicuramente ho delle coppie importanti, quindi sicuramente quando faccio una scelta degli 11 avrò gente scontenta, ma quello che sottolineo io, sono contento di avere gente scontenta forte. Jefferson si dovrà integrare con noi, viene sicuramente in panchina e valuteremo partite in corso, però non comincerà sicuramente.